Sesto appuntamento stagionale del Predators Challenge Cremona Circuit e siamo in compagnia di uno dei volti nuovi per quanto riguarda questa stagione ovvero Mario Fiamingo ha il suo debutto stagionale ma per te non è la prima esperienza in assoluto in Predators? No, avevo già corso circa due anni fa, avevo fatto qualche gara nel campionato un paio di anni fa però ecco dopo due anni ancora stiamo cercando di trovare il giusto feeling con la macchina e speriamo sessione dopo sessione di fare sempre meglio. Che effetto ti fa ritrovare il mondo Predators in una giornata, in un weekend caratterizzata da una presenza davvero imponente di vetture in pista? Eh sì, siamo circa un 20 macchine quindi penso tante però certo è sempre bello comunque tornare a questo mondo, ho tanti amici quindi è sempre bello. Condizioni dell'asfalto che potrebbero essere caratterizzate anche dalla presenza di un po' di pioggia, come potrebbe influenzare la vostra guida questo fattore? Eh tanto, tanto perché comunque diciamo non è mai facile correre sul bagnato dopo tanto tempo, soprattutto già sull'asciutto abbiamo qualche problemino perché comunque col vento l'asfalto non è, diciamo non ha molto grip quindi vedremo, vedremo. Ti troverai a battagliare in pista anche con tuo papà Roberto, che effetto ti farà magari qualche bagarre durante la gara? Eh sì, sì, già il mondo Predator ha già assistito a delle bagarre tra noi due e speriamo di divertirci, questo è lo scopo principale. Allora in bocca al lupo e buon divertimento con il Predators Challenge qui dal Cremona Circuit. Grazie a tutti.